La scusa, si fa per dire, è quella riguardante la cessazione disposta dall'autorità per l'energia del mercato tutelato e il passaggio a quello libero. Tutto scatterà ufficialmente al primo luglio del prossimo anno, ma già adesso la società di fornitura di energia elettrica hanno iniziato la corsa per accaparrarsi i clienti. Rientra in questo quadro il pellegrinaggio di non meglio identificati sedicenti operatori dell'Enel che cercano di ottenere dagli utenti dichiarate firme di conferma dei contratti di fornitura elettrica. Certo approfittarsi della disinformazione che impera su questo argomento è il gioco più facile del mondo, ma se c'è chi respinge più o meno cortesemente la richiesta, consapevole che non è questo il modo di fare queste operazioni, c'è chi invece cade nel tranello, soprattutto le persone più anziane indifese, indotte sia dallo spauracchio di una mega penale che in caso di mancata firma potrebbe essere applicata, dicono i falsi operatori, sia delle notizie sui possibili risparmi in bolletta. Il tema è controverso, tutto l'oggetto di regolamentazione. C'è chi si industria però e pur di accumulare nuovi contratti, visto che con la telefonata del call center magari non riesce più nell'intento, sguinzaglia persone con finti tesserini di riconoscimento in giro per il territorio, ma attenti alla truffa meglio non fidarsi e eventualmente allertare anche le forze dell'ordine.